Locauto 2, la tua concessionaria ufficiale Peugeot a Torino, Rosta, Roletto, Novara e Vercelli. Ecobonus Locauto 2. Apertura straordinaria domenica 24 febbraio. Da noi puoi trovare tutte le offerte e le promozioni delle nuove vetture Peugeot. Peugeot 108 a partire da 8.300 euro. Iniziativa speciale per chi ha meno di 30 anni. Con finanziamento Peugeot iMove Under 30. Rate a partire da 89 euro al mese. TAN 4,75 e TAEG 8,28. Peugeot 208 a partire da 10.700 euro. Con finanziamento Peugeot iMove. Rate a partire da 100 euro al mese. TAN 4,75 e TAEG 7,77. SUV Peugeot 2008 a partire da 12.950 euro. Con finanziamento Peugeot iMove. Rate a partire da 149 euro al mese. TAN 4,75 e TAEG 7,02. SUV Peugeot 3008 a partire da 23.900 euro. Con finanziamento Peugeot iMove. Rate a partire da 249 euro al mese. TAN 4,75 e TAEG 5,94. Tutte le promozioni sono valide per vetture in pronta consegna, per contratti stipulati e immatricolazioni entro il 28 febbraio 2019. Finanziamenti salvo approvazione banca PSA. Scegli il punto vendita più comodo per te. Torino, strada Pianezza 275. Torino, corso Rosselli 181. Rosta, corso Moncenisio 79. Roletto, via Torino 2. Caresana Blot, via Bercelli 61. Novara, località Lumellogno, via Pierlombardo 228. Non perdere tempo. Approfitta delle offerte Locauto 2 su tutta la gamma. Peugeot 108 a partire da 8.300 euro. Con finanziamento Peugeot iMove Under 30. Da soli 89 euro al mese. Peugeot 208 a partire da 10.700 euro. Sarà tua con una rata piccolissima. Da soli 100 euro al mese. SUV Peugeot 2008 da 12.950 euro. Con rate a partire da soli 149 euro al mese. E per finire SUV Peugeot 3008 da 23.900 euro. Con Peugeot iMove sarà tuo. A partire da 249 euro al mese. Vi aspettiamo in tutti i nostri punti vendita. Locauto 2. La tua concessionaria ufficiale Peugeot a Torino, Rosta, Roletto, Novara e Vercelli.